schede a video nome famiglia nome comune fa parte della famiglia degli accanturidi suo nome specifico è accanturide piroferus provenienza e habitat dimensioni litraggi idoneo condizioni vasche difficoltà proviene dall'oceano indiano occidentale pacifico occidentale birmania isole di natale isole cocos e indonesia isole marchesi ea nord ea sud del giappone in australia e nuova caledonia in natura a possum può arrivare a una dimensione di 29 cm in cattività dai 15 ai 18 in natura si scorge brucare sulle le alghe sulle nelle acque basse delle zone lagunari oa ridosso della scogliera sulle parti esterne del rip preferisce zone dove le madrepore si mescolano a rocce e strati sabbiosi staziona in base alle formazioni coralline e in ambienti presenti con sedimentazione mista d'alghe tra i due e i 60 metri come livello di nuoto a un livello di nuoto molto alto quindi esige una vasca che sia non non abbia un litraggio inferiore ai 500 litri servono anche delle zone nel nella rocciata dove ci siano dei nascondigli e in caso di pericolo o quando è particolarmente stressato lui va a nascondersi in questi anfratti il livello di nuoto è un è molto alto come ho detto prima e ha bisogno di quindi di un di ampi spazi di nuoto una compatibilità alta con coralli non è un pesce aggressivo e ha una buona allevamento in vasca convivenza con altre specie alimentazione riproduzione come appena detto massimo non è un pesce aggressivo tuttavia è pur sempre una canturide quindi la convivenza special modo con altri pesci chirurgo può essere difficoltosa e l'inserimento in vasche con altre specie simili quindi di accanturi di presenti deve essere fatta con estrema cautela per quanto riguarda il cibo appena introdotto e nel periodo di acclimatamento accetta il cibo con difficoltà ma lo si noterà brucare le alghe presenti sulle rocce della vasca o sui vetri una volta che poi è ambientato diventa un nivoro si potrà somministrare mangimi sul gelato artemia e misis mangimi secchi foglie di alghe nori di cui vanno particolarmente ghiotti e oltretutto non disdegna vegetali come insalato spinaci bolliti per quanto riguarda la riproduzione è molto tipica quella che avviene in natura dove la deposizione delle uova avviene per via pelagica nelle prime ore della sera le coppie rilasciano gameti nella corrente oceanica il maschio si esibisce in una danza di corteggiamento muovendosi a scatti in questo modo attira l'attenzione della femmina che poi lo insegue verso la superficie dove vengono rilasciate i spermatozoi e uova le uova rimangono nella corrente per un periodo che va dalle 20 ore ai tre giorni non appena le avvianotti si schiudono sono in grado di nutrirsi con le proprie uova in seguito dopo aver raggiunto la dimensione di circa mezzo centimetro andranno a rifugiarsi tra le madre apure del rizzo purtroppo in cattività ad oggi non si conoscono ancora casi di allevamento dei lavanotti con successo la curiosità di questo pesce sta anche sul nome viene chiamato pesce mimico come possiamo vedere nelle immagini in sovrimpressione queste sono le varie tipologie di livrea che può assumere durante tutto il periodo della sua vita altre curiosità beh data la sua livrea adulta il pesce è anche chiamato pesce cioccolato perché comunque ha un tende al marrone questa ed altre schede sul nostro blog